Ciao a tutti e benvenuti su questo canale! Io sono Erla, per chi non mi conosce, e sono una check-in agent all'aeroporto di Malpensa, ma vlogger nel tempo libero. Questo è il mio canale, si chiama Discovery Erla e ti porta un po' nella mia vita, fatta di notti insonne, fitness, ricette sane, divertimento, viaggi. Se ti va, iscriviti al canale e trovi il tasto qua sotto. Ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima! Ciao!